C'è un po' da dire qua, se siamo tutti qui dopo 50 e qualsiasi anno, però vogliamo vedere, va bene o no? C'è una bella atmosfera, però vedo ballare poca gente, come mai non ballate? Guarda, forse ci sono stati delle esigenzioni di ballarini molto grandi, e allora potremmo pensare magari a nostra altezza, invece non è così perché qui tutti sanno parlare una perola, anche io che ne sono seduto a campo, cioè idealmente siamo tutti con questa musica, sia ascoltata che ballata. Tu sei, come Maria, che ci ha regalato tanti pezzi, non ci ricordi ad un po' il tumore delle tue amiche e delle storie di lei, di dati sei qui, ricordo a quei pochissimi di questo momento, ma non avessero più santo. Cosa devo dire? Ragazzo la pergolta, la coppia più grande del mondo, una sparenza e una spugna, un'impresa, un'impresa, e beh, scusate se può, quindi comunque ti voglio ringraziare con se qui, naturalmente non abbiamo premiati, abbiamo un'impresa, tutto il nome dell'Ampi Days, e voglio dire che cantante rock è molto bello, quindi adesso lo sentiremo, portiamo un alco perché dentro la niente di un bello, penso che sia uno dei complimenti più belli che potesse ricevere, adesso lo torniamo e così te lo direi anche in fretta davanti di più. Nel frattempo Teresa è più prima.